Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che dedica l'apertura ad un'ampia prima pagina alla festa della donna all'8 marzo. In Abruzzo quest'anno, oltre alla tradizionale mimosa, il simbolo della festa della donna è la presentosa 3D, un gioiello in plastica realizzato dall'artista terramano Isidoro Vagnozzi. L'oggetto ieri è stato donato alle detenute del carcere femminile di Chieti, un'occasione per riflettere sul significato della festa della donna. Ascoltiamo a riguardo la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Gemma Andrini. L'8 marzo è una giornata importante per tanti aspetti, ma soprattutto perché tutti quanti finalmente prendono coscienza di quali sono le problematiche che affliggono il mondo femminile. E veramente sono tante. Questa che diceva lei della presentosa è un'idea che nasce da Teramo ed è un'ottima idea perché è un gioiello simbolo dell'amore dell'uomo verso la donna e quindi vogliamo proprio che questo simbolo diventi un simbolo universale e che combatta la violenza, la violenza contro le donne che è sempre di più, purtroppo, nelle cronache giornaliere. Quindi questo è un nuovo messaggio che è stato mandato attraverso questa simbologia importante. Come non strumentalizzare questa giornata? Questo è un altro aspetto molto interessante. Questa giornata viene chiamata la festa della donna, ma se in realtà andiamo a vedere perché è stata fissata questa giornata, ci troviamo davanti a delle donne che sono state vittime dei loro datori di lavoro, perché sono state chiuse in una fabbrica e sono morte bruciate. Quindi la festa è in realtà in un certo senso una forzatura. Si ricorda la donna per le discriminazioni che lei subisce, quindi chiamarla festa forse è un non senso. Io mi sto attivando per proporre che sia un'altra la vera festa della donna, perché anche adesso con le nuove normative che prevedono anche maggiore diffusione delle normative che riguarderanno la possibilità per le donne di essere candidate e quindi di riuscire a ricoprire posti istituzionali importanti, credo che forse la festa della donna dovrebbe essere quella nella quale la donna nel 1946 ha avuto il diritto di voto. e questo forse potrebbe essere un messaggio positivo rispetto a questo che sicuramente raccoglie in sé tantissimi messaggi che non vanno assolutamente cancellati, benissimo anche l'8 marzo, ma vediamo di metterla in positivo. A Pescara giovani studenti delle scuole hanno presentato dei lavori realizzati proprio su questo tema, sulla festa della donna, sull'8 marzo. L'8 marzo viene ricordato al comune di Pescara, in questo caso ci sono delle scolaresche, viene raccontato quello che è un progetto e soprattutto si vogliono sottolineare i valori che si legano dietro a questa ricorrenza. Sì, oggi un 8 marzo particolare qui in comune, un 8 marzo in compagnia delle scuole, di una serie di istituti scolastici che hanno partecipato ad un concorso indetto dalla commissione pari opportunità, aventi ad oggetto la disparità di genere con dei prodotti artistici che qui presentiamo. Un'occasione anche per aprire le porte della sala comunale alla società, alle scuole e a fare una riflessione su una giornata che c'è ogni anno. Naturalmente ci sono anche gli altri 364 giorni dell'anno, ma oggi si riflette sulla condizione femminile che certamente ha fatto passi in avanti ma che ulteriori ne dovrà compiere. Lo facciamo in compagnia delle nuove generazioni, nella sala consigliare, insomma una mattinata spero fruttuosa anche per i nostri piccoli ospiti. Ed ora la pagina della cronaca, un uomo è morto nello scontro tra un'auto e un veicolo APE avvenuto questa mattina in Contrada Remartello a Loreto Aprutino in provincia di Pescara. La vittima del posto è Gaetano Palmucci, conducente dell'APE. Sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti dei carabinieri di Montesipano e della Polizia Municipale di Loreto per stabilire con certezza la dinamica. Palmucci avrebbe perso il controllo del mezzo finendo prima contro il marciapiede poi contro un'auto che stava transitando in quel momento. Da Pescara si è alzato anche un mezzo dell'elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E poi ancora sei anni per l'ex presidente dell'Ato Giorgio D'Ambrosio, cinque anni per il professor Luigi Panzone, quattro anni e tre mesi per il dirigente Ato Nino Pagano, un anno e sei mesi ciascuno per l'ex sindaco di Montesilvano Pasquale Cordova, l'ex sindaco di Francavilla Roberto Angelucci e Gabriele Pasqualone, ex componente del CDA dell'Ato. Un anno per il dirigente Ato Alessandro Antonacci. Sono le richieste di condanna avanzate oggi dal PM del Tribunale di Pescara Barbara Del Bono nel corso della sua requisitoria nell'ambito del processo sul cosiddetto partito dell'acqua che si sarebbe creato in Abruzzo nell'ambito dell'Ato 4 pescarese. Gli 11 imputati sono accusati a vario titolo di peculato, corruzione, abuso d'ufficio, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, distruzione di documenti, truffa ai danni dello Stato e in violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Le richieste di condanna riguardano solo alcuni capi di imputazione perché per altri reati il PM ha chiesto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione o l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Ad ora la politica, l'Italia dei Valori ha presentato una proposta di legge, di iniziativa popolare sulla legittima difesa. Si chiede la possibilità di potenziare, la possibilità di autodifendersi. Il capogruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale Lucrezio Paolini ed il segretario regionale del partito Lelio De Santis hanno presentato all'emiciclo questa mattina la proposta di legge popolare sulla legittima difesa di iniziativa dell'Italia dei Valori. Il testo del provvedimento è stato depositato in Cassazione ed ha l'obiettivo di punire più severamente la violazione del domicilio attraverso il raddoppio delle pene e potenziando le possibilità di legittima difesa. La delinquenza va punita e va punita severamente. L'Italia dei Valori con un progetto di legge di iniziativa popolare è già depositata alla Corte di Cassazione il 17 febbraio. Ci deve essere un cambio di tendenza. Noi questo vogliamo perché sia garantito il diritto di tutti i cittadini a vivere serenamente all'interno delle proprie mura domestiche. Chi sbaglia, chi delingue, debba pagare seriamente e debba rimanere in carcere. Questo lo vogliamo fare aumentando le pene anche per evitare una specie di far west in cui ognuno cerca di fare giustizia da sé. Questo non è corretto, non è serio. Però nella stessa maniera bisogna rafforzare il presidio a tutela di cittadini e del territorio quindi non solo con un inasprimento delle pene ma anche rafforzando l'attività di vigilanza e di controllo con più poliziotti, più carabiniere, più vigili urbani a tutela del cittadino e a presidio del territorio. Ora ci spostiamo all'Aquila. Rischiano il crack centinaia di piccoli artigiani per lo più subappaltatori impegnati nella ricostruzione post-terremoto. Ditte non pagate o pagate con ritardi insostenibili, lavori ridotti all'umicino, fondi bloccati perché all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere il titolare Paolo Esposito non ha ancora il potere di firma. Tanti e drammatici problemi che attanagliano le piccole ditte subappaltatrici quasi tutte aquilane impegnate nella ricostruzione post-sisma che ieri hanno protestato in Consiglio Comunale all'Aquila chiedendo una svolta ed anche immediate modifiche al decreto antiterritoriale entrato in vigore ad agosto 2015. Massima solidarietà esprime oggi il sindaco di Barisciano e coordinatore dei sindaci del cratere sismico Francesco Di Paolo. La legge sulla ricostruzione concorda bisogno di modifiche e i subappaltatori vanno tutelati. Di Paolo poi torna ad augurarsi che finalmente la Corte dei Conti metta il suo timbro sul decreto che prevede il rinnovo del contratto di Esposito riconfermato all'inizio gennaio. Senza quella avvidimazione Esposito non ha il potere di firma e di conseguenza non è possibile sbloccare ad oggi 9 milioni di euro per pagare le ditte impegnate nei cantieri e dare il definitivo via libera a progetti di ricostruzione dal valore di 20 milioni di euro. Guardi, sono pienamente d'accordo che qualche regola delle ricostruzioni sicuramente va cambiata perché questa regola che prescrive che il 30% possa riferirsi soltanto alla categoria prevalente può creare dei grossi problemi alle ditte artigiane della nostra zona oltre al fatto che è previsto che anche per lavori sotto ai 150 milioni di euro è necessaria la SOA. Poi c'è la questione ad esempio molto grave del fatto che queste ditte non vengono pagate perché poi la ditta appaltatrice porta le fatture degli stati di avanzamento lavori al comune, all'ente che eroga il finanziamento con un'autocertificazione e poi non ha pagato i subappaltatori. Ecco, questo deve cambiare. Beh, l'autocertificazione comunque se è falsa è un reato penale che andrà perseguito secondo le leggi dello Stato. Com'è la situazione della ricostruzione nei cantieri dei comuni? Guardi, è noto che abbiamo questa difficoltà per la nomina del dottor Paolo Esposito che speriamo che veramente nei prossimi giorni possa essere risolta. Comunque come sindaci ci stiamo organizzando perché forse è il momento di fare un documento forte per portare a termine l'idere amministrativo di questo documento. Gli ex lavoratori interinali di Attiva proseguono la loro lotta per riottenere il posto di lavoro e attendono ancora risposta all'interpellanza presentata al Ministro del Lavoro Poletti. Va avanti il presidio dei lavoratori interinali Attiva rimasti senza occupazione. Va avanti la richiesta di attenzione da parte delle istituzioni e del rispetto che meritano 69 padri di famiglia che hanno atteso per anni che quel contratto a tempo determinato diventasse finalmente una certezza indeterminata. Noi per autofinanziarci stamattina abbiamo creato dei gruppi e ci siamo messi a vendere le mimose senza chiedere niente di che, abbiamo chiesto ad offerta, abbiamo riscontrato una buona partecipazione del cittadino, dei cittadini e niente, questo è solo perché questa baracca purtroppo c'è i suoi costi e noi siamo rimasti tutti, c'è chi è rimasto senza disoccupazione, chi non c'ha più lo stipendio, chi non c'ha più niente. Qual è il punto della situazione? Voi avevate fatto diverse richieste, voi avevate chiesto la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e è arrivato un no dalla Corte dei Conti. Adesso come si prosegue? Scherzare con 67 padri di famiglia che non sanno più dove sbattere la testa non è una minaccia, parliamoci chiaro, questa non è una minaccia, non è un avvertimento, è soltanto un dato di fatto. Scherzare con 67 padri di famiglia che non sanno più dove sbattere la testa comincia ad essere un pochino pericoloso, perché loro giocano ancora sul fatto del tirocinio, quindi non vorremmo che questo fosse un gioco per coprire tutta l'estate e poi alla fine di questo tirocinio tutti a casa, tutti amici, tutti felici e contenti. Questo non esiste. Il 16 marzo ci sarà un incontro all'Aurum proprio per parlare di questa situazione? Sì, c'è una scolaresca di Montesilvano, l'Istituto Tecnico Alessandrini, che per un progetto di lavoro con il professor Baldassarre, hanno voluto convocare questa assemblea, questa riunione che si terrà il 16 all'Aurum, saranno presenti loro, ci sarà l'assessore di Iacomo e ci saremo noi, una rappresentanza di noi e si parlerà proprio di questa questione di attiva e questo è un modo per ringraziare anche loro perché si sono interessati alla nostra vicenda. Torniamo all'Aquila perché perplessità e critiche sono state espresse da medici e sindacati. Si è parlato infatti di riforma sanitaria e degli effetti che avrà per i servizi alla popolazione. Medici e sindacati hanno detto la loro. La classe politica responsabile negli ultimi vent'anni dello sfacelo della sanità pubblica è entrata in gambatesa sulla nomina del direttore generale Rinaldo Tordera. Ha imposto senza averne titolo, un manager bravo ma senza competenze in materia sanitaria, fregandosene dell'elenco degli idoni e attingendo addirittura dall'elenco della Lombardia, arrivando anche ad offendere i medici aquilani bollandoli come una lobby. Va giù duro, molto duro, Alessandro Grimaldi, segretario del sindacato dei medici a Nau dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, nel corso di una conferenza stampa convocata dai sindacati Cisle Will, con l'intento di fare un'operazione verità non solo sulla nomina di Tordera, direttore generale dell'Asla Vezzano sul Monal Aquila, ma anche sul piano di riordino della sanità, imposto dal decreto Lorenzin, che in Abruzzo già solleva allevate di scudi per i tanti tagli e accorpamenti previsti. E proprio sul piano di riordino arriva la seconda bordata di Grimaldi. I parlamentari abruzzese, affermato, conoscevano da più di un anno gli effetti della riforma sulla sanità abruzzese. Non possono ora cadere dalle nuvole e urlare allo scandalo. La battaglia la dovevano fare a tempo debito in Parlamento. Il riferimento è anche la senatrice Stefania Pezzopane, che ha tenuto poco giorni fa una conferenza stampa a difesa dei reparti che rischiano di chiudere del San Salvatore. Tira infine alle somme Gianfranco Giorgi, responsabile sanità della Cisle. La riforma Lorenzina ha spiegato che non può essere applicata in modo indolore ad una regione come l'Abruzzo, che ha solo 1,3 milioni di abitanti distribuiti in un ampio territorio. perché inevitabilmente si sguarniscono le aree interne. E infine snocciola l'elenco delle priorità da affrontare al neomanager Tordera. Noi chiederemo molto, perché c'è molto da fare. Per esempio la pianta organica deve essere rivista, il completamento dell'ospedale, che ancora non bisogna ricostruire il delta medico. Bisogna fare in modo che scompaiono i container dall'interno dell'ospedale, da Collemaggio. Quindi ci sono tante cose da fare. Bisogna fare in modo che non ci sia precarietà all'interno dell'Alzio. E continuiamo a parlare di sanità, perché un'apposita sezione è stata creata da Confindustria Pescara Chieti. Un'iniziativa volta a un confronto continuo con le istituzioni per tutelare i servizi ai cittadini. Efficientare il sistema sanità, ma senza correre il rischio di perdere servizi per i cittadini. Una sorta di sorvegliante che si pone in maniera collaborativa nei confronti delle istituzioni. Così Confindustria Pescara Chieti presenta la neonata sezione sanità. Oggi presentiamo un manifesto composto da diverse priorità. Il fattore comune è sicuramente quello di chiedere alla Regione, alle varie istituzioni, a tutti gli interlocutori istituzionali, una maggiore partecipazione in quelle che sono le scelte. In questo noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza, l'esperienza di tutta la sezione. e possiamo contare in un know-how ampio perché racchiudiamo varie anime al nostro interno che vanno dalle case di cura private all'RSA, ai fornitori di beni e servizi. E quindi ci poniamo in maniera collaborativa per essere al fianco delle istituzioni, nelle fasi decisionali e per offrire questa nostra competenza. Se doveste individuare quelle che sono le lacune in questo momento, quali potrebbero essere? Diciamo che una criticità che riscontriamo spesso è data dai tagli. Vorremmo che si passasse da un concetto ormai obsoleto per noi di taglio lineare a una razionalizzazione delle spese, ovvero sicuramente risparmiare laddove ci sono degli sprechi ma anche saper valorizzare quelle che sono le eccellenze. Per far questo però bisogna passare attraverso un affrontare diversi problemi, quindi andare un po' più a fondo nelle situazioni e in quest'ottica cerchiamo di essere al fianco delle istituzioni. Screening gratuiti alla Mammella da parte dell'ASL di Teramo. Oggi visite nel camper in piazza a Pineto, ribadita l'importanza della prevenzione. Si chiama Screening e salva la vita. Questo è lo slogan dell'ASL di Teramo per queste visite gratuite che si svolgono proprio in provincia. Oggi siamo a Pineto con il dottor Capone, responsabile dello screening della Mammella dell'ospedale di Teramo, dell'ASL di Teramo. Una campagna importante questa? Sì, una campagna importantissima nell'ambito del programma di prevenzione della nostra ASL. La prevenzione del cancro del seno è diventata un LEA, un livello essenziale di assistenza e quindi noi come azienda siamo protesi a che questa cultura della prevenzione si diffonda in tutta la provincia. La prevenzione è fondamentale per alcune malattie, soprattutto per il tumore al seno. Dobbiamo semplicemente ricordare che è il tumore che maggiormente colpisce la popolazione femminile. Partecipare a un programma di prevenzione non solo facilita i percorsi diagnostici e terapeutici, ma riduce la mortalità che nel caso della mammella è superiore al 20-25% di riduzione di mortalità. Nell'ambito del nostro programma di comunicazione abbiamo attivato un numero verde che è l'800 21 0002 che è la nostra centrale di ascolto. Ogni giorno tutte le donne che sono in età di screening, cioè per la mammella da 50-69 anni, possono telefonare a questo numero e dare le proprie generalità se hanno il dubbio di non essere nei nostri elenchi. La signorina che vedete alle mie spalle fa proprio questo lavoro, risponde al nostro helpdesk, prende i dati delle signore, le trasferisce alla segreteria e quindi ove la signora non fosse inserita nei nostri elenchi, verrà inserita negli elenchi e quindi verrà chiamata per fare la mammografia. Oggi lo facciamo qui, la signorina prende i nomi e le signore salgono su quel camper ed eseguono la mammografia che è il test per lo screening. La prostituzione è fuori controllo. A Pescara la denuncia da parte del consigliere comunale della lista Teodoro Massimiliano Pignoli che chiede l'intervento immediato del prefetto e del questore. Prostituzioni sotto la luce del sole, in orari pomeridiani sotto gli occhi di tutti. La denuncia arriva da Massimiliano Pignoli che chiede un intervento immediato alle istituzioni di Pescara. Perché abbiamo notato che da alcuni mesi la città è invasa dalle cosiddette lucciole. È invasa anche il pomeriggio, per cui ci troviamo a camminare noi cittadini pescaresi, ad esempio in prossimità della stazione ferroviaria di Pescara, sia su Piazza della Repubblica ma soprattutto anche su Via Enzo Ferrari, e vedere queste prostitute che tranquillamente vendono il loro corpo. Questo non mi sembra una cosa giusta. Ovviamente questa cosa avviene anche in Via della Pineta, dove i residenti sono ormai da anni che lottano per eliminare questo problema, ma in realtà non si fa nulla per eliminarlo. Per cui questa mattina abbiamo voluto rimettere a centro dell'attenzione questo problema della sicurezza anche che i cittadini ci chiedono di porre rimedio. Per cui scriveremo nei prossimi giorni al prefetto e al questore affinché si intensifichi i controlli per eliminare questo problema. Pescara certamente non può essere una città della prostituzione. E ora apriamo la pagina sportiva e parliamo proprio di Pescara, Serie B. E di Pescara che cerca riscatto sabato prossimo contro il Novara, uno scontro diretto per i biancazzurri che hanno mantenuto comunque il terzo posto proprio in coabitazione con il Novara. Questo perché ieri nel posticipo della trentesima giornata il Cesena ha perso in casa contro la Saernitana e dunque è rimasto due punti dietro la coppia Pescara-Novara. Sta parlando in questo momento in conferenza stampa il tecnico Massimo Oddo che sta analizzando il momento della squadra proprio all'inizio di questa delicata settimana. Ascoltiamolo. E marcavano a uomo, poi abbiamo cambiato. Gol di Ceccherini. Gol di Ceccherini. Poi non abbiamo più preso gol. Il primo gol, l'ultimo gol preso... Non direttamente, ma sviluppi. Nel senso che l'abbiamo presa noi la palla, poi uno è posizionato male al limite dell'area, ma direttamente l'abbiamo sempre presa noi. L'ultimo gol su palla inattiva, su punizione laterale l'abbiamo presa a Cesena. Due ne abbiamo presi. Quindi, quando tu prendi due gol e ne prendi due barra tre in una sola partita, non può essere coincidenza, assolutamente, perché quando ne prendi tre in una partita, quando non sei abituato a prenderli, noi non siamo abituati a prenderli su palla inattiva da quando abbiamo cambiato modo di marcare. Poi se volete vi spiego pure perché abbiamo cambiato. Vuol dire che non può essere una casevità, ma è una mancanza di attenzione, è una mancanza di feroce agonistica, come hai detto tu, è una mancanza di personalità in quel momento, perché noi nel momento in cui abbiamo preso gol, sia in occasione del primo che del secondo gol, eravamo posizionati male, laddove avevamo lavorato una settimana sul posizionamento su palla inattiva e battuta della Mammarella. quello dimostra il fatto che eravamo poco attenti in quel momento e dimostra il fatto che in campo, in quel momento, laddove io mi sbracciavo dalla panchina e non mi sentivano, evidentemente in campo c'è la mancanza di qualcuno, di un leader che prende per il colletto il compagno e dice che siamo messi male. Quindi la responsabilità è mia, ma è mia perché? Perché se io ho lavorato tre giorni su quelli di palline attiva, vuol dire che io ci devo lavorare sei giorni. E questa settimana ci lavoreremo sei giorni. Questa è la mia positività, questo è il voler pensare positivo. Ma non è assolutamente un problema di palline attiva, di marcamento a zona o quant'altro. Alla zona siamo passati perché noi, prendendo in questa squadra, abbiamo tre barra quattro saltatori. Se considerate il fatto che quando uno marca a uomo, almeno tre devono andare a zona che sono i più forti di testa, ci rimane uno forte di testa e sette nani che abbiamo. Quindi se pensiamo che deve andare a marcare Torreira, Benali e quant'altro, se devi essere attento a zona, a uomo devi essere ancora più attento e ancora più marcatore. E quindi abbiamo cambiato. E da quando abbiamo cambiato non abbiamo sofferto praticamente quasi mai su palline attiva. Domenica, l'ultima partita, sabato, abbiamo sofferto perché è mancata attenzione. La soglia dell'attenzione. Sicuramente era quello che ti chiedevo, perché vedendo gli uomini coinvolti, di Vicente, io quello intendevo. No, erano messi male. Se vedete il primo gol, noi eravamo su una palla ad uscire, almeno cinque, sei giocatori schiacciati davanti al primo palo. Quindi è un errore clamorosamente di posizionamento. E sulla palla ci si trova bene lì. Sono perfettamente d'accordo. L'unico che stava doveva stare era quello che non riusciva a fare. Sì. Quello che doveva fare. Perché la palla lì cadeva. Perché Mammarella batte sempre allo stesso modo, benissimo, ma sempre allo stesso modo. Se fossimo... Ok, dunque in conferenza si sta parlando tanto degli errori del Pescara, soprattutto gli errori commessi in occasione dei calci piazzati di Mammarella, che hanno portato ad almeno tre delle cinque realizzazioni della squadra, della Provercelli. Per quanto riguarda la Virtus Lanciano, invece oggi la squadra riprenderà il lavoro in vista della trasferta di Salerno, resa ancora più insidiosa dalla vittoria, dal colpo piazzato dalla squadra di Menichini ieri a Cesena, da valutare le condizioni non solo del portiere Cragno, che comunque sta bene dopo il colpo ricevuto alla testa contro il Brescia, ma da monitorare le condizioni anche del difensore Salviato, che cerca di recuperare dal problema muscolare, che lo tiene fuori da due settimane. In Lega Pro, invece, ci sono le disegnazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Teramo Carrarese è stata affiliata a Nicolò Sprezzola della sezione di Mestre, mentre Sant'Arcangelo L'Aquila sarà diretta da Armando Ranaldi della sezione di Tivoli. E' il momento del Teramo, abbiamo parlato con il difensore Marco Errotta. Sicuramente degli stimoli importanti, perché comunque fare il calciatore è il nostro lavoro, e quindi se non abbiamo stimoli andiamo in campo con un'altra testa. Quindi bisogna trovare gli stimoli giusti per affrontare di partita in partita al meglio e comunque cercare di fare risultato tutte le volte che giochiamo. Se devo cancellare una cosa mia personale, preferisco cancellare l'espulsione con l'Arezzo, perché comunque ha condizionato tutta la partita i miei compagni e ha lasciato in dieci la squadra. Quindi quella è una cosa che vorrei dimenticare, anche perché ho preso tre giornali di scuoli via. Quelle cose dell'autocorso sono cose che succedono. Mi prendo tutte le mie responsabilità, perché è stata esclusivamente colpa mia, però, come ho detto, sono cose che succedono in un calciatore, c'è stata una disattenzione mia e quindi mi sono preso questa responsabilità e ho fatto questo errore. Ora spero che non capiterà più, perché comunque non sono cose che fanno bene alla squadra, anche perché potremmo vincere con la terza in classifica. Noi stasettimana ci alleneremo al meglio per preparare la partita, perché la Carrarese secondo me è una delle squadre che gioca meglio. Anche all'andata ci ha messo in difficoltà, in una delle poche squadre ci ha messo in difficoltà sotto la parte del gioco. Quindi noi dobbiamo prepararla al meglio e cercare di riconquistare questi tre punti che mancano da un po'. Forte, devo dire, di continuare così, di lavorare, perché la gente che vede gli allenamenti, penso, noi della squadra, sappiamo come si sta allenando e sappiamo quello che sta soffrendo, perché anche quando andiamo a cena fuori lui soffre molto il fatto che non sta segnando. Però gli dico che il lavoro paga, quindi se continuiamo così sicuramente i risultati arriveranno e si toglierà grandi soddisfazioni. Cambiamo disciplina e parliamo di un talento locale. Inizia domani in Qatar l'avventura dell'Abruzzese. Lorenzo Petrarca nel Moto Mondiale Moto3, oggi il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale di Montorio Alvomano. Lorenzo Petrarca, alla vigilia della partenza per il Qatar e per il Moto Mondiale, oggi c'è questo importante avvenimento, questo riconoscimento del Comune di Montorio che fa sicuramente piacere. Sì, è un grande onore per me essere premiato dal Comune di Montorio, soprattutto in una giornata così importante, prima della partenza, per la prima gara. Quindi due grandi emozioni, tutti due nello stesso giorno. Domani finalmente partiamo per il Qatar, dove svolgeremo gli ultimi tre giorni di test, la settimana dopo il primo weekend di gara. Grande emozione, tanta voglia di fare bene, di crescere pian piano gara dopo gara. Gli obiettivi sono tanti, sarebbe già un grandissimo traguardo essere costantemente in zona punti in tutte le gare. Spero anche non manchino gare con migliori prestazioni, posizioni più avanti, nei gruppi di testa. Comunque si vedrà strada facendo. È l'unico terramano che riesce ad arrivare al Mondiale, è il secondo abruzzese, quindi ci sono tanti motivi di essere orgogliosi. Poi siamo contenti perché è la sua passione, è la sua vita. Mi fa piacere che l'Abruzzia Comunale dia questo riconoscimento a Lorenzo, senza dimenticare che già in passato la prescenda dell'Abruzzia Comunale ha riconosciuto a Lorenzo un premio, perché in occasione di alcune sue vittorie riportate nell'ambito nazionale e internazionale. Anche la nuova amministrazione si sente di dover premiare Lorenzo Petrarca per i risultati ottenuti, anche perché è un ragazzo che è stato scelto e chiamato dalla federazione a svolgere un campionato così importante che è un punto di lancio per Lorenzo, ma è anche un punto di lancio per il comune di Montereo Alvomano che vedrà portato comunque nelle tappe internazionali che lui andrà a svolgere. Quindi è un orgoglio per l'amministrazione, ma per la comunità montorriese tutta. Venisce qui il TG6, prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.